buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video su una health box la box creativa che mi manda ogni mese soffi e intoffi perché mi manda sembra una cosa a tipo collaborazione no la pago tranquilli la pago visto che ultimamente vi state irritando quando dico che se sono collaborazione o no specifichiamo questa non è una collaborazione e niente e io come al solito non so cosa ci sia qua dentro anche perché di solito quando loro cominciano a far vedere cosa ci sono nelle loro box a me non sono ancora arrivate nemmeno quelle del mese prima qui non è aperto molto bene quindi magari ho visto tipo mesi fa cosa c'era in sta box e ovviamente non me lo ricordo ok l'ho aperta del tutto e ora vediamo che cosa che cosa sei frozen winter wonderland oddio che bel tema ecco vedete è ancora il novembre cioè a me arrivano sempre con tutta la calma del mondo a quanto pare non posso mai farlo in tempo tipo va bene e niente spoiler su quello che c'è dentro questo l'ho già tirato fuori per sbaglio ma che accidenti è questa cosa professional nail art cioè questi sono tipo degli adesivi per nail art non capisco andiamo ad aprire subito allora qui dentro c'è una piccola lima per unghie che prima o poi cambierò forse questo specie di stuzzicadenti gigante che non è uno stuzzicadenti e oh mamma mia ma quante sono oddio no aspettate ma che è sta roba non credo che siano adesivi siano secondo me tipo se tu li ritagli e te li attacchi sulle unghie non lo so non l'ho capito però non penso che siano per le unghie di solito queste cose non sono mai per le unghie quindi non lo so non ne ho davvero idea di cosa sia sta roba poi andiamo avanti allora abbiamo svitata vabbè abbiamo della resina UV fin type io non mi ricordo mai fin no thick vuol dire densa quindi quella liquida mi pare credo non ne sono sicura poi vabbè apriamo dai su apriamo allora il pigmento no momento è olografico ma ha dei riflessi strani non è uguale a quello ai pigmenti argento olografici che ho già c'è un sacco di roba per le unghie anche questo in teoria sarebbe per le unghie però oddio delle unghie così oddio che pugno nell'occhio è boh cioè è olografico però vedete che è più olografico è più iridescente del solito fa tutti i riflessi e il coverina tipo è stupendo dovrò farci assolutamente qualche creazione lo tengo senza la bustina più comodo queste saranno le basi per fare le mollettine che poi non sono mollettine la cosa così va bene per fare lo chignon tipo oddio sono un po corte per farci lo chignon e tra parentesi per quelli che ne vedo ieri mi continuavano a dire che qui cosi che avevo fatto con la resina erano per legare i capelli cioè questo è abbastanza corto per legare i capelli questo è tipo la metà quindi no non credo proprio che questi siano per legare i capelli comunque se non devono essere per legare i capelli se no davvero non ne ho idea poi abbiamo questi due basil che penso che siano quelle palline con la neve che giri e la neve si muove la base è un po strana però penso che siano quelle che belli questi mix guardate che cose carine ci sono un sacco di micro perle oro vari tipi di oddio come si chiamano pietruzze cose di metallo a cerchio non so cose un po strane che sono molto carine da mettere nelle creazioni in effetti oh mio dio ma guardate questi glitter e perline anche ma sono di colori meravigliosi la luce sta funzionando bene quindi spero che si veda bene a me la luce sembra che faccia schifo dal video però vabbè forse la luminosità bassa nel cellulare si cosa sono pesci no sono conigli ma sono conigli vabbè poi ci sono vari tipi di glitter grandi piccoli stella luna sono bellissimi cioè alcuni hanno dei riflessi pazzeschi veramente belli così con questi colori oh ma c'è un castello è tipo quello della foto uno stampo a castello per resina o resino v che carino ma mi sa che io ce l'ho uno stampo fatto così tra parentesi non in in silicone questo è un wire ma è di sì tipo di quei fili sottilissimi di metallo per fare i bracciali o per fare i gioielli in generale in realtà non sono mai stata molto esperta ad usare questi fili poi questo cos'è che bello guardate che bello questo stampo c'è questo cristallo che si fa con lo stampo sembra bellissimo davvero molto carino lo proverò presto ragazzi ve lo ricordo anche oggi se state guardando questo video sappiate che al 90 per cento mercoledì prossimo non riuscirò a fare i video sulle creazioni perché io sto per partire sto via un po di tempo e non ho fatto in tempo a fare delle creazioni in più perché quelle mi richiedono molto tempo e quindi sto preparando altri video però un po più brevi da preparare quello invece mi richiede un giorno intero poi c'è questo stampo che dannazione mi fosse arrivato prima a sta box sarebbe stato perfetto perché è molto natalizio con renna candy cane popazzo di neve albero di natale campana lumino di pan di zenzero vari tipi di fiocchi di neve eccetera eccetera sono tanto carini non si vede niente sono trasparenti e come faccio forse così si vede qualcosina è molto carino vabbè comunque anche se natale passato lo proverò perché comunque uno stampo nuovo ma questi cosa sono davvero non capisco cosa siete voi a ma cos'è questo è spappolato tipo ma cos'è sta roba pensavo no non penso che si mettano qui non hanno molto senso no davvero non capisco cos'è sta roba what ragazzi avete capito cos'è sta roba per caso no perché io assolutamente no questo è stradeforme tutte le cose qua sono piegate vabbè non ho assolutamente capito cos'è sta roba infine l'ultimo uh altre cosine carine allora abbiamo vari tipi di pietruzze questi sono tipo glitter trasparenti a forma di fiocchi di neve altre pietruzze altri cioè questi non sono proprio glitter sono fiocchi di neve basta tipo altre pietruzze micro perle carine tutte cose molto ottime ghiaccio effettivamente con colori che stanno bene con il ghiaccio molto carini e allora ragazzi io prima di chiudere il video voglio provare ad usare assolutamente questo con la resina uv magari mettendoci qualcuno di questi glitter e si assolutamente voglio provare quindi allora adesso vado a prendere le cose per farlo tipo la lampada uv che può essere utile per asciugare la creazione e niente proviamo ok allora sorvolando il caos che c'è qua in giro cominciamo usiamo questa resina che c'era nella box allora vado a mettere un po di resina magari apriamo lo stampo può essere utile e non azzeccherò mai le misure adatte per fare questa creazione ci metterò sicuramente o poca resina o troppo poca dunque ce ne va davvero poca in effetti quindi vediamo se riesco ad azzeccare le misure proviamo così e allora che glitter ci metto a parte che appena ho aperto sta confezione si è rotta un pochino delicata voglio prendere i glitter piccolini ok allora ho preso questi tre e adesso vado a mettere giusto un po non voglio farlo esagerato perché deve vedersi molto bene la trasparenza e vado a metterne un po alla volta ok questi sono i glitter che non si vedono praticamente non riesco a inquadrarli niente da una mescolata all'iverso e accendo la lampada uvi voglio fare una cosa molto semplice e appunto non troppo pesante voglio che sia particolarmente trasparente ragazzi avevo ragione non ho azzeccato minimamente le misure ce ne va tipo il doppio però faccio presto poi ci metto l'altra resina trasparente direttamente qui dentro e mescolo un attimino per spostare glitter e basta il problema è che essendo in 3d lo stampo non capisco assolutamente quanta resina c'è dentro bene ragazzi allora a parte che ci sono 600 mila eccessi guardate qualche roba e cerchiamo di toglierli bene vediamo come è venuto stavo guardando prima sta cosa se lo guardiamo da sotto sembra che ci siano i glitter solo in questa parte con le sfaccettature e se lo giriamo sembra che ci siano solo lì vabbè cose non ho niente da fare mentre aspetto che si asciughi la creazione tipo vediamo un po oddio maga quanto è bello aspettate tolgo un attimo questi eccessi che non rendono molto bene l'idea ok ragazzi guardate che bella oddio no bellissimo mi piace un sacco è troppo bellina non ho tagliato benissimo in effetti va bene dopo lo faccio no vabbè mi piace un sacco anche perché ce ne sono ci sono più glitter sotto che sopra e questo effetto che sembra tipo sfumato mi piace un sacco è bellissimo davvero sono molto soddisfatta anche se è stato semplicissimo bene ragazzi sono un sacco contenta di questo cristallo mi piace tantissimo bene fatemi sapere se sapete cosa sono alcune cose nella box che non so cosa siano o non sono sicura di cosa siano comunque niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo video che sarà un ask tra l'altro le domande me le sto facendo fare su instagram ho provato a usare l'impostazione nelle storie quindi andate a farmi le domande ciao ciao